Musica Processo Vic si va verso il terzo atto. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Ancona, Roberto Rossi, ha infatti presentato ricorso in Cassazione per chiedere l'annullamento della sentenza di assoluzione di Leopoldo Vic, l'ex infermiere della RSA di Offida, emessa dai giudici di secondo grado a dicembre dello scorso anno. Sentenza questa che aveva ribaltato il verdetto della Corte d'Assise di Macerata, la quale aveva condannato Vic all'ergastolo per la morte di sette ospiti della struttura e il tentato omicidio di un altro anziano. Secondo il procuratore, non sarebbe stato violato il diritto di difesa di Vic, come sostenuto dai giudici d'Appello nelle motivazioni, in quanto l'iscrizione sul registro degli indagati è una prerogativa esclusiva del pubblico ministero. Riguardo ai prelievi ematici effettuati sui pazienti deceduti, non dovevano sempre, secondo il procuratore generale, essere considerati come accertamenti tecnici irripetibili, invece come accertamenti urgenti e non subordinati al preventivo avviso del legale difensore. Il terzo motivo riguarda il fatto che i campioni ematici sono stati prelevati nel corso del procedimento penale oggetto di incidente probatorio durante la fase di indagine e presi in esame nella perizia disposta in primo grado senza che le difese abbiano avuto il tempo per sollevare l'inutilizzabilità dei prelievi ematici. Di conseguenza, i risultati delle perizie sono da ritenersi accettati. Infine, il quarto motivo riguarda la mancanza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione della sentenza di assoluzione, poiché i giudici di secondo grado avrebbero ritenuto i prelievi inutilizzabili per tutti i casi di presunto omicidio contestati. Tuttavia, secondo il procuratore, questa motivazione potrebbe applicarsi solo ai casi in cui i prelievi sono stati effettuati post-mortem, ma non per quelli eseguiti quando una delle presunte vittime era ancora in vita. Pertanto, almeno in questo caso, non sarebbe stato violato nessun diritto di difesa nei confronti di Vic. Questi quattro motivi rappresentano le basi del ricorso presentato dal procuratore generale per chiedere l'annullamento della sentenza di assoluzione dell'ex infermiere della RSA di Uffida.